Scocca l'ora del derby numero 102. Domenica alle 15 allo stadio Mancini andrà in scena l'attesa sfida fra Alma Juventus-Fano e Vispesaro e in ballo c'è molto più dell'onore campanilistico. Lo ricordano classifica e calendario perché mancano sei partite alla fine, come sei sono i punti di ritardo che il Fano lamenta dalla Vis e dalla stessa zona salvezza. Al derby ci arriva un'alma reduce da una settimana di passione andata ben oltre il clima della sfida fra Cugine, perché dopo la terza sconfitta consecutiva con la Virtus Verona è arrivato anche il terzo allenatore della stagione Granata. Lunedì Flavio Destro ha deciso di dimettersi e il presidente Fattò Offidani ha affidato le redini della squadra ad Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale. L'alma spera che la carica di Tacchinardi faccia ora scattare una molla di grinta e risultati per il rush finale cominciando già dal derby. Una partita alla quale arriva una Vis reduce da una sconfitta col Padova che non ha lasciato troppi strascichi, perché di perdere con la capoclassifica la Vis l'aveva forse messo in preventivo ed ha perso a testa alta con una prestazione in linea alle precedenti che avevano tirato fuori Pesero dalle sabbie mobili. Però quelle sabbie non sono ancora troppo lontane e a Fano la Vis si gioca un crocevia delicatissimo nel primo capitolo di un trittico che continuerà con Imolese e Arezzo per tre scontri salvezza ravvicinati. Il derby poi ha sempre un sapore particolare, lo è ancor di più per il fatto che la Vis con Gucci, Ferrani, Di Sabatino e Germinale schiererà ben quattro ex giocatori dell'alma. Purtroppo, come nello 0 a 0 dell'andata, mancherà ancora il sale del derby, quello della passione del tifo che sarà ancora una volta costretto a tribolare sul divano di casa.